Ma che ti prende? Niente. Mi hai messo in imbarazzo. Ah sì? Sì, avrei voluto sparire. Sparire! Poi dicevi delle cavolate. Cose che so che non pensi. L'hai fatto apposta, vero? C'è altro, guarda che io devo andare. Rivedi quella? Ma che vuoi? Rivedi quella. Sono fatti miei, hai capito? Sono fatti miei! Ma che ti prende? Ma chi sei diventato? Come mi parli? Parlo come in fare. Sono stanco di essere impurato da te, da tua madre, da tutti. Ma avete rotto tutti, va bene? Fammi andare Camilla, fammi andare. Chi se ne frega del pranzo di Natale? Andiamo a casa tua, stiamo insieme. Da me? No. No, non puoi venire da me. Perché? Perché sto cercando di rifarmi una vita, va bene? L'hai capito che sto cercando di rifarmi una vita? Va bene. Per me non è un problema, anzi io sono contenta. Ma questo cosa c'entra con noi due? E c'entra! Perché ho bisogno di sentirmi libero. Perché ho dedicato tutta la vita a voi, a te, il lavoro, la casa, il lavoro, la casa, ma avete rotto tutti. Basta, fammi andare. No. Papà, che cosa sta succedendo? Dimmi la verità. Io ti conosco, papà. Non mi devi cercare. Non mi devi cercare, mi devi lasciare in pace. Ti prego. Bisogno di te. Vattene via.